L'aviazione russa colpisce a tappeto nel tentativo di tenere le posizioni a Kharkiv nella regione di Donetsk, dove vengono presi di mira depositi di armi e carburante oltre che infrastrutture. Combattimenti ed esplosioni si sono registrati vicino alla stazione di Liman, nell'oblast di Donetsk. A Mariupol, la leppo europea, come l'ha definita Giuseppe Borel, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, si cerca di evacuare i civili dall'acciaieria di Azovstal, assediata dalle truppe russe. Il sindaco Boichenko teme per i circa 600 feriti che si troverebbero nell'ospedale da campo all'interno dell'impianto. La gente è da più di 60 giorni in condizioni critiche, implora salvezza. Ecco perché oggi tutti noi stiamo pregando alla comunità internazionale di unirsi a noi per salvare la vita della popolazione locale. Per rendere omaggio alla resistenza ucraina a Kiev, il presidente Vladimir Zelensky ha consegnato le medaglie di eroe dell'Ucraina ai militari e parenti dei caduti in azione e ha negato la possibilità di una resa. Combatteremo gli occupanti finché non libereremo la nostra terra e il nostro popolo, finché non risponderemo di ogni morte e di tutte le devastazioni che gli occupanti hanno portato nelle nostre case e nel nostro paese. Intanto Mosca ha pubblicato un video che mostra un uomo ferito che si è arreso alle truppe russe nella regione di Mikolaiv. Il combattente ha detto di essere un cittadino britannico originario di Plymouth.